Signore, signori, ragazzi, ragazze, Dolce Nera! L' ho segale di dubbio e opportunità, questa specie di libertà cante e cattedrale, ma che non vale un ruolo locale... Un nuovo locale, come sarebbe bello potersi dire, che noi ci amiamo tanto, ma tanto da morire, e che qualunque cosa accada, noi ci vediamo a casa. Voi, e tutti i falsi erori, verso il malaffare, vicino alla credentà, questa pseudo eredità, di forma culturale, che da tempo non va a respirare, non va a respirare. Come sarebbe bello potersi dire, che noi ci amiamo tanto, ma tanto da morire, e che qualunque cosa accada, noi ci amiamo tanto, ma tanto da morire, come sarebbe bello potersi dire, non credo l'ora di vederti, amore. Con una scusa, una sorpresa, vai presto e ci vediamo a casa. La realtà chiamano realtà, senza testimone e di dubbia moralità, questa specie di libertà, che non sa volare, 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 volare. Come sarebbe bello potersi dire, che noi ci amiamo tanto, ma tanto da morire, e che qualunque cosa accada, noi ci vediamo a casa. Come sarebbe bello potersi dire, non credo l'ora di vederti, amore. Come sarebbe bello potersi dire, non credo l'ora di vederti, amore. Con una scusa, una sorpresa, vai presto e ci vediamo a casa. Dolce nera! Grazie! Grazie a tutti